Ciao a tutti, come ben sapete da alcuni mesi abbiamo inserito diversi prodotti per il trasporto e il travaso della benzina. Oggi vi presento un articolo secondo me molto molto interessante. Il prodotto di oggi è un serbatoio trolley, quindi con la maniglia e le ruote per un trasporto semplice, della benzina. Come ben sapete la benzina è un prodotto che non si può trasportare senza dei contenitori che siano omologati, infatti questo prodotto è omologato per il trasporto di carburanti, di benzina soprattutto. È molto interessante per quale motivo? Perché oltre al trolley di trasporto nella pistola finale avete una pompa all'interno, quindi avere una pompa all'interno che può fare il travaso senza in questo caso però doversi connettere a una presa di corrente è veramente molto molto importante. È importante specialmente per chi non vuole trasportare o avere diversi attrezzi nei vari punti di lavoro. Penso ad esempio a chi non utilizza questo trolley per lavoro ma perché le serve, non so, magari per andare in vacanza. Per chi appunto ha una barca a questo trolley riesce a contenere 53 litri di prodotto ed è molto comodo ogni volta che può essere utilizzato per questi lavori. Questo trolley ha anche nella parte posteriore delle incavature proprio per poterlo legare eventualmente al vostro furgone con delle cinture. Inoltre ha anche dei rubinetti che sono molto semplici da togliere proprio per staccare completamente il tubo poi dal trolley e ha una capacità di travaso, quindi la pompa che trovate all'interno della pistola ha una capacità di travaso di 7 litri e mezzo al minuto, quindi insomma una buona capacità di travaso. Per qualsiasi informazione clicca nel link in descrizione. Ti ricordo inoltre di iscriverti al nostro canale youtube e di attivare la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornato e se questo video ti è piaciuto metti un bel like.